E ci siamo, finalmente, finalmente ce l'abbiamo fatta. Luca Franchini, ciao Luca. Buon pomeriggio Vanessa. No, io volevo che lo presentassi. Ah, lo presento io. Va bene, signore e signori, abbiamo qua il folletto di San Diego, Mr. Sisqon9, Ray Misterio! Adesso non c'è la plaga. Benvenuto, benvenuto Ray, grazie di essere qua. Allora, spieghiamo perché Ray è qui, tra l'altro oltre ad essere uno dei miti assoluti, assoluti, però perché? Perché c'è un legame tra calcio, giusto, e le esultanze dei wrestler. Esattamente, diciamo che nell'ultimo periodo nel campionato di Serie A, molti calciatori quando esultano, esultano imitando le stelle del wrestling. Forse qualcuno non si è reso conto di questo e dovremmo avere, fra l'altro, un filmato appunto che ci parla proprio di questo. Non c'è, niente, oggi è così, dai, non lo sappiamo. Per esempio il più famoso è Fabrizio Miccoli. Sì, Fabrizio Miccoli diverse volte portava la maschera di Ray Misterio e la indossava dopo ogni gol, però cosa è successo? Che la federazione italiana gioco calcio gli ha vietato questa esultanza. E allora, non lo so, motivi di regolamento, non volevano che lui si togliesse da sotto, lui la metteva nei pantaloncini, la metteva nei pantaloncini e come si chiama, alla fine... Facciamo una cosa, sta succedendo una cosa fantastica. Sì, sta suonando il telefono. Il telefono. Ok. Allora passiamo così, mentre tu rispondi a te... No, 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 no. Noi ci vediamo le esultanze. Va bene, va bene, guardiamo le esultanze. Pensiamo che l'ho tolto. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un vero piacere. Una grandissima soddisfazione vedere che in un altro sport si festeggia, si esulta come nel nostro. Ma lui è tifoso? Perché io so che voi siete stati a trovare una squadra di calcio. Sei tifoso? Sì, certo, sono tifoso. Mi piace moltissimo il Barcellona. E in Italia? In Italia? Ma in Italia? Mi piace l'Inter. Che non è Inter e Milan, ma solo Inter. Inter, diciamo che all'estero uno è S-Milan e l'altro è Inter-Milan, così sono riconosciuti. Allora facciamo vedere cosa abbiamo combinato oggi. Dai, andiamo alla pinettina. Prima che sfodri il tuo fantastico inglese, dobbiamo raccontare questa giornata con Ray Mysterio, qui ad Appiano Gentile, in casa dell'Inter, perché lui è un tifoso, è appassionato. In due parole, Ray Mysterio per chi non conoscesse. Beh, Ray Mysterio è uno dei lotatori più spettacolari al mondo, ha uno stile acrobatico e ha uno stile che piace a grandi e piccini. Inoltre, prima mi confidava che nella sua abitazione ha fatto mettere giù il prato, l'erba e con i figli gioca a calcio, quindi si diverte. Ora ha un leggero infortunio ad un ginocchio, però è pronto a sfidare prima il Frank, Luca Franchini e poi me come portiere. Andiamo a svelare anche chi c'è in porta in questo rigore. A un momento perché si sta preparando, eccolo lì, chi è il portiere? Beh, insomma, l'uomo sta da cinesca, è più inviolabile della sua cameretta per un uomo questa porta. È il Godzilla Luca Franchini da Varese, mentre il suo avversario, e ti prendo il microfono, da San Diego è Ray Mysterio! Let's go! E spiazza il portiere! Ray 1, Wrestling Team Italia 0! Adesso facciamo un rapido cambio in porta, with the second shot, arriva Franchini in telecronaca e Posa va in porta, quindi vediamo. Allora, subito un commento a caldo come è sto rigore. Eh, ha tirato bene, è angolattissimo, neanche Andanovi se l'avrebbe preso, diciamo la verità. Ecco, saluto, now the second shot, vai in telecronaca e ti passa il microfono. Allora, vediamo un portiere che è peggio di un portiere d'albergo, perché non ho mai visto un portiere con la giacca, vedremo un po'. Michele Posa da Lecco contro Mr. 619! Ray Mysterio da San Diego! Wooop! Let's go! No! Quindi 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, pareggio, ma questa è la classica zappata. Ray, come here! Ah, i peggio, l'ha pagato! Cosa ci puoi dire di questo rigore? Penso che c'era un po' di un lump qui, che puoi vedere che è in mio portiere, quindi... L'hai zappata? Sì, bisogna livellare il campo un po'. Insomma, si lamenta un po' del campo. Comunque, chiudiamo con... Ray Mysterio, un'ultima domanda, un'ultima domanda. È vero che sei un amico di Chicharito Hernández, il giro mexicano di Manchester United? Ed è vero che sei un amico del Chicharito Hernández? He was in San Diego one time to play for La Selección Mexicana and I was off tour, I was actually here in Europe and my wife and my daughter went to the stadium, met up with him, they told him that that was Remy Mysterio's wife and daughter. I never had the pleasure, but he was a tremendous person. He signed for my wife, signed for my daughter and he sent me a shirt autographed, so, great person. Grande persona, ha organizzato un incontro con la sua famiglia, anche se lui poi non l'ha conosciuto di persona, però molto gentile. You know there are a lot of rumors that is it possible to see Chicharito Hernández here in Milan? Cosa puoi dire del fatto che Chicharito Hernández ci sono voci di mercato che lo riguardano vicino all'Inter? That would be incredible, right? I mean, is Vidic coming over too? So that would be, I mean, it would be nice to have Chicharito play right here for Milan. We'll see, we'll see. Insomma, ha detto sarebbe bellissimo, fantastico vedere Chicharito qui. Grazie, thank you, Remy Mysterio and see you, Sam. Thank you very much, thank you, thank you to the team for having me here as a guest. Incredible, thank you for the jersey and I hope to be back soon. Spera di tornare presto, ringrazio all'intro ovviamente per la gentile accoglienza, per la maglia, lui appassionato e tifoso, adesso ovviamente lo sarà ancora di più. Grazie. Beh, se noi non lo abbiamo visto, magari lo vedremo in altre edizioni, ma il capitano, Xavier Zanetti, ha consegnato la maglia personalizzata col numero 619619, che è il nome della sua manovra risolutiva finale, la sua finisher, la mossa con cui lui finisce i match, ma è anche il numero di telefono, il prefisso della contea di San Diego da dove lui proviene. Ecco qua che ci sono le immagini del momento in cui lui riceve dal capitano dell'Inter. Che impressione ti ha fatto, insomma, visitare il campo di allenamento dell'Inter? Lui gli ha regalato la maschera. Lui ovviamente gli ha regalato la maschera. È stato incredibile, io sono cresciuto col calcio, io insieme ai miei altri tre fratelli, con mio padre, giocavamo sempre a calcio. Essere qua, essere parte di tutto questo, è veramente un sogno realizzato. Ma il giocatore che ti piaciuto di più incontrare, chi è stato? Il capitano? È stato un grandissimo onore, un grande piacere incontrare Zanetti, grande persona, un buon cuore. L'unica cosa che mi manca, visto che la maglia dice Ray Mysterio 619, devo fare una maschera con i colori dell'Inter. Il blu, il nero, con il logo e il design di Ray Mysterio. Sì, anche perché, allora, devi sapere che il capitano e Ray hanno parlato un sacco di tempo in spagnolo e insomma noi eravamo un po' esclusi. Poi, Ray Mysterio ha invitato Xavier Zanetti il 15 e il 16 maggio prossimi, qui a Roma, giovedì 15 maggio e a Torino venerdì 16 maggio, perché la WWE arriverà ad esibirsi da vivo. E quindi vedremo se compatibilmente con le esigenze e gli impegni della squadra, Ray Mysterio e Zanetti si potranno incontrare. Però, oltre al calcio, che è uno dei grandi amori del popolo italiano, io volevo chiedere a Ray Mysterio se preferisce di più le donne o la cucina italiana, visto che qua abbiamo una degna rappresentanza della femminilità italiana. No, no, di chi cucina bene? Valla brava, valla brava. Ok, can I choose both? Posso scegliere? No, no, allora fai come i calciatori, mi danno la risposta scontata. Eh no. Oh, ok, ok, I pick the women. Allora scelgo le donne. Bene, bene. E Franchini invece no, Franchini preferisce chi cucina, sai? No, no, io preferisco, mi sono messo anch'io a dieta abbastanza ultimamente. Ray Mysterio è qua anche per pubblicizzare Vrestelmenia 30. Tu devi sapere che Vrestelmenia, cara Vanessa, è l'evento più importante dell'anno. E Ray Mysterio adesso è fermo per infortunio, ha problema di un ginocchio ed è nella lista infortunati, però è stato tante volte grande protagonista a Vrestelmenia. Allora io chiedo a Ray Mysterio qual è stato il suo Vrestelmenia moment, il momento che ricorda di più di Vrestelmenia. Per me la ventiduesima edizione. Quando ho combattuto per il titolo mondiale sono diventato un campione mondiale. Chicago e Illinois. Tu pensa che lui è stato il primo atleta, cosiddetto peso leggero, a vincere una rissa reale a 30 uomini che tu sai bene che noi avevamo, ti ricordi quando Michele ti chiese cosa faresti nel ring con 30 uomini insieme e allora tu ti sei imbarazzata. Lui ha vinto la Royal Rumble del 2006, con quella vittoria è riuscito ad arrivare a Vrestelmenia e a Vrestelmenia è diventato campione del mondo dei pesi massimi. Bene. Allora, mi sembra che siamo in chiusura, giusto? Sì, perché ci sono ugolini e paventi che sennò fanno una mossa di Vrestelmenia. Sì, ma gli facciamo fare una sessione di Ray Mysterio. Allora concludiamo con un messaggio di Ray Mysterio ai componenti del WWE Universe italiano. Per quanto riguarda Vrestelmenia 30 il 6 aprile e il prossimo tour a maggio a Roma e a Torino. Un messaggio. Innanzitutto, uno dei match che più mi interesserà e il mio messaggio per i fan è grazie per il vostro appoggio che vi ho preso sempre dato in tutti questi anni anche alla WWE. Sono 30 anni di Vrestelmenia, è veramente una cosa molto importante e dice già tutto che sono 30 anni. Ringraziamo l'ora Ray Mysterio per la disponibilità, la gentilezza e quant'altro. Va bene, grazie anche a te Luca. Grazie a te Luca, noi ci fermiamo.